Benvenuti a Noi Chiesa Diocese. Liguri è scattata la catena di solidarietà per le zone della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Caritas in questo momento invita a non inviare beni materiali oppure persone in aiuto ma a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto con offerte in denaro e su questo si sta attivando la conferenza episcopale italiana ovviamente insieme a Caritas. Nel primo servizio di oggi vi mostriamo la testimonianza che ha riportato Caritas proprio rispetto alle più urgenti necessità della popolazione colpita dal sismo e poi ascolteremo anche le parole del cardinale Mario Zenari, l'unzio apostolico in Siria che nelle prime ore dopo il terremoto ha raggiunto con estrema difficoltà le zone colpite dal sismo. Vediamo. Un consiglio che deriva dalla complessità del contesto sociopolitico nella regione del sismo per il delicato equilibrio in cui operano le chiese e per la difficoltà dei soccorsi a raggiungere le zone colpite a causa di nuove scosse, instabilità degli edifici rimasti in piedi, strade impercorribili e temperature sotto zero. La Caritas dell'Anatolia sta accogliendogli sfollati in luoghi sicuri all'aperto e ha già distribuito centinaia di coperte di pasti caldi. In Siria è stato attivato l'intero staff di Caritas che in queste ore sta monitorando i bisogni e organizzando gli aiuti in vista di un primo programma di risposta con uno sguardo al medio-lungo periodo. Noi abbiamo accolto qui nella nostra chiesa quasi 500 persone tra anziani, bambini e famiglie. Hanno dormito qui, non ci sono materassi, hanno dormito sulle sedie purtroppo perché anche non ci sono spazi, però abbiamo cercato di provvedere a loro il necessario da mangiare, da bere. Caritas italiana è impegnata da molti anni in Turchia e Siria con le rispettive Caritas nazionali. In questi giorni il contatto è giornaliero. La modalità indicata per l'aiuto immediato è dunque quella di avviare una raccolta fondi a livello territoriale utilizzando il conto corrente postale 347013, donando online o con bonifico bancario, specificando nella causale Terremoto Turchia-Siria 2023. La chiesa chiavarese indirà una colletta diocesana coinvolgendo le parrocchie in una delle prossime domeniche. Per la popolazione siriana piegata da oltre un decennio di guerra, cosa significa adesso la tragedia del terremoto? Nella città martire adesso si chiedono perché ci è capitato anche questo e i preti qua, i religiosi e i religiosi si sentono fuori a questa domanda perché capita questo, che siamo stati sotto le bombe, lì si sapeva che erano quei ribelli, c'era gente che ci mandava le bombe ma adesso da dove viene questa catastrofe? Insomma domande a cui è difficile rispondere. Erano già sotto anche un'altra bomba, la bomba della povertà, il 90% stando alle statistiche delle Nazioni Unite vive sotto la soglia della povertà. Quindi allora, prima le bombe diciamo reali, ogni sorta di armi che è stata usata, pensiamo che qui ad Aleppo o in varie parti della Siria e poi quella che io chiamo è comunemente la bomba della povertà e adesso ancora questo grande terremoto. A tutto questo si aggiunge un dramma nel dramma che è quello delle sanzioni, le quali riferiscono testimonianze dal posto impediscono il passaggio degli aiuti. Allora, voglio sperare che ci sia un po' di buonsenso e un po' di umanità, sia a livello nazionale, perché purtroppo la guerra non è ancora terminata ecco vorrei che già a livello nazionale si mettessero da parte questi conflitti, questa animosità e questi scontri e si guardasse a questa povera gente con senso di umanità e poi a livello anche internazionale, insomma qui è chiaro quello che è necessario e urgente soccorrere questa gente bisognosa, insomma di là di considerazioni politiche o di divisioni politiche e questo sarà un testo, un testo di umanità per tutti quanti, per la comunità internazionale e anche qui all'interno della Siria. Sabato 11 febbraio si celebra la 31esima giornata mondiale del malato sul tema del messaggio del Papa, abbi cura di lui. A Genova, domenica 12 alle 15.30 nella cattedrale di San Lorenzo, la Santa Messa presieduta dall'arcivescovo padre Marco Tasca. A Savona, l'ufficio per la pastorale della salute della diocesi organizza un pomeriggio comunitario, sempre domenica, insieme alle parrocchie Santa Maria Giuseppa Rossello e San Filippo Neri al gruppo Scout Savona 10. Alle 15 sarà celebrata la Santa Messa con unzione degli infermi e poi un momento di animazione e di condivisione. A Tortona, il vescovo Guido Marini celebra la Santa Messa con unzione degli infermi, sabato 11 febbraio alle 18 in cattedrale. Sempre sabato 11 febbraio alle 9.30, il vescovo di La Spezia, Sarzana e Brugnato, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, visiterà il polo riabilitativo del Levante Ligure della Fondazione Dognocchi alla Spezia. La celebrazione diocesana per la diocesi di Albenga Imperia sarà presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti, sabato alle 15 nella parrocchia San Pio X a Loano. A Chiavari il vescovo Giampio De Vasini presiderà la celebrazione della Messa alle 15.30 di sabato nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Ora sulla giornata mondiale del malato vi proponiamo la riflessione di Don Matteo Pescetto, il coordinatore della pastorale della salute per l'Arcidiocese di Genova. Nel messaggio per la giornata mondiale del malato 2023, Papa Francesco ricorda che la malattia fa parte della nostra esperienza umana, ma essa può diventare disumana se è vissuta nell'isolamento e nell'abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Noi abbiamo sempre un faro che il Signore Gesù e il Papa continua, come già nella sua enciclica Fratelli Tutti, a riproporci l'immagine di Gesù, buon samaritano dell'umanità, quale motore interiore e l'esempio da seguire. E il tema di quest'anno, Abbi cura di Lui, ci richiama proprio a questa caratteristica. Gesù si è fatto uomo per prendersi cura di noi, si è fatto uomo, figlio di Dio, perché noi figli dell'uomo possiamo diventare figli di Dio. L'indifferenza, da un lato, anche un po' poi dell'umanità, perché questa pandemia ha messo a nudo quello che il Papa un po' richiama anche essere la causa di tanta indifferenza e di tanta paura, perché è la paura della malattia, del limite, della fragilità, perché oggi la proposta all'umanità, anzi più che proposta, il martellamento continuo, essere per lo meno eccezionali, tutti d'un pezzo, senza difetto e conseguentemente poi il sentirsi un po' tutti inadeguati alla fine. Gesù non ha paura delle nostre fragilità, non ha paura del peccato, non ha paura della morte. L'espressione non abbiate paura, non temere, è quella che più ricorre in tutto l'Antico e Nuovo Testamento. L'enciclica Fratelli Tutti propone una lettura attualizzata della parabola del buon samaritano. Il fatto che la persona malmenata e derubata venga abbandonata lungo la strada rappresenta la condizione in cui sono lasciati troppi fratelli e sorelle nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. La mia malattia che mi accompagna da quando sono nato e che spesso dico non cambierai per la salute, mi ha insegnata a non aver paura. Gesù è con noi, ci ha affidato alla Chiesa che è il suo mistico corpo perché abbia cura di noi. E se c'è una cosa che ho potuto sperimentare in questi miei primi 47 anni di vita è veramente questo amore che nei fratelli, nei confratelli, prima di tutto nei miei genitori, nella mia famiglia, ma poi ricordo io ho fatto otto interventi alle braccia per poterle poi usare, non perdere l'uso delle mani. Qui al Gaslini tutto è grazie a veramente essere anche genovese, avere un nonno pediatra al Gaslini, ecco tutto favorito, ma l'ho sempre sperimentato questo amore che si prende cura dell'altro al punto che il Gaslini era diventato per me come una famiglia, come lo era al seminario, come una famiglia, avevo in quel periodo tre famiglie. E poi in ospedale sperimenti l'amorevolezza del Signore Gesù attraverso gli infermieri, le infermiere che erano tutte mamme, i medici, le mamme poi al Gaslini, il papà con i loro bimbi, una fraternità che si instaura non nella perfezione, non nell'essere qualcuno, ma anche nel comune dolore. Il dolore fa paura, fa paura di fronte alle grandi tragedie che sconvolgono interi paesi e intere comunità, ma fa paura nella dimensione più personale. Nel messaggio per la giornata del malato il Papa scrive che non si è mai pronti per la malattia e spesso nemmeno per ammettere l'avanzare dell'età, la vulnerabilità è temuta e per la fragilità non c'è spazio. C'è una paura viscerale. Perché? Perché non sappiamo cosa farne innanzitutto. Perché il dolore nasce certamente dal male, che è in un senso, ma Gesù si è fatto uomo proprio per assumere tutto il dolore dell'umanità. Perché Gesù ha trasformato il dolore. E chi scopre questa realtà non solo nella malattia propria, certo lì si può avere una marcia in più, ma anche nella malattia del fratello del quale si sta prendendo cura e si accorge della potenza salvifica del dolore che diventa il vero maggiore salvezza. In realtà se la carne di Cristo è diventato il cardine della salvezza lo è sull'altare della croce, dove ha crocifisso tutto il dolore e lo ha reso preziosissimo. Credo che questa giornata mondiale del malato debba ricordare a me e poi a tutti noi questa realtà meravigliosa. Papa tanto lo ricorda da quando è pontefice e questa paura dell'umanità che l'ha portata a vivere questa cultura dello scarto, del malato, dell'anziano, del bambino, del disabile, perché ne ha paura. Ne ha paura. Non c'è da aver paura. Abbiamo delle mani, grazie al Signore Gesù, una ricchezza infinita. E per chi magari un po' meno ha cercato degli altri e ha la possibilità di prendersi cura degli altri, è un'occasione meravigliosa di prendersi cura, diceva l'anno scorso il Papa, della carne sofferente di Cristo, di poter amare Gesù in loro, di venerare Gesù in loro. Sì, perché poi alla fine la grande paura dell'uomo di oggi non è solo la malattia, ma quello che è essa poi alla fine può portare la morte. Ma noi sappiamo che Gesù è vincitore del male, del peccato e della morte e ha trasformato questa vita terrena che purtroppo è l'unico orizzonte in un trampolino. La mia nonna mi diceva in uno zerbino, sul quale pulirsi i piedi per poi entrare finalmente a casa. Mercoledì 15 febbraio ci sarà un doppio appuntamento formativo per gli operatori della comunicazione. Al mattino a Chiavari un corso aperto agli operatori appunto della comunicazione e ai giornalisti sul tema del messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Al pomeriggio a Genova la presentazione del libro La Chiesa nel digitale, a cui tutti sono invitati a partecipare. Ma sentiamo su questo la collega del cittadino Francesca Di Palma che abbiamo intervistato per questo servizio. Per raccontare la realtà occorre a volte fermarsi e ricordare qual è il punto di partenza, il desiderio, la scintilla che genera la storia. Per questo, in occasione della memoria di San Francesco di Sales, gli uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi di Genova e Chiavari e Uxiliguria organizzano un doppio momento formativo a Chiavari e Genova, mercoledì 15 febbraio. Al mattino a Chiavari un corso sul tema del messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, parlare con il cuore, verità tenfacente e sincaritate. Interverranno due giornalisti, due firme autorevoli, Gianni Borsa, che è il corrispondente da Bruxelles dell'agenzia Sir e poi ci sarà Fabio Bolzetta, che è un giornalista di TV2000 ed è il fondatore e attuale presidente dell'associazione Webmaster Cattolici Italiani. Nel pomeriggio, nella Chiesa dei Santi Cosme Damiano a Genova, a cura di Uxiliguria, con la collaborazione del Centro Culturale San Paolo, è in programma la presentazione del volume di Fabio Bolzetta, La Chiesa nel Digitale. Con l'autore interviene Andrea Tomasi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, introduce l'incontro Don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l'annuncio del Vangelo. Formalmente faccio un invito a tutti gli interessati a venire. Questa volta sarà a Genova, a partire dalle ore 16, nella Chiesa dei Santi Cosme Damiano, ci sarà la presentazione del libro di Fabio Bolzetta, La Chiesa nel Digitale. È un volume che si propone come guida, come vademecum, per tutti coloro che si muovono nel campo della comunicazione in ambito ecclesiale. Mai come in questi anni, soprattutto dopo l'accelerazione impressa dalla pandemia, la quantità di informazioni da cui si è raggiunti genera confusione e rischia di inquinare la chiarezza del messaggio. L'UXI è un'associazione fatta principalmente da giornalisti, ma non solo da giornalisti. La bellezza e direi la peculiarità di UXI è che riunisce giornalisti da tutta Italia, perché UXI si muove a livello nazionale e poi ha tante associazioni regionali, tra cui la nostra UXI Liguria, di cui facciamo parte tanti giornalisti chiavaresi, genovesi. Ha la peculiarità soprattutto di voler formare i giornalisti con un occhio soprattutto ai giovani, diciamo un po' il fiore all'occhiello del cammino annuale dell'UXI, è la scuola di formazione che viene organizzata ogni anno ad Assisi ed è riservata soprattutto ai giovani, ma naturalmente è aperta a tutti coloro che come soci UXI vogliono partecipare. Con l'aiuto di figure autorevoli del mondo della comunicazione, laiche e cattoliche, guida proprio i giornalisti, coloro che si muovono nel campo della comunicazione, ma anche i cameraman, i fotoreporter, chi fa siti web, a comunicare in modo corretto e soprattutto in modo credibile. Il bisogno di consapevolezza, specie nella comunicazione digitale, è diffuso soprattutto negli ambienti ecclesiali che affrontano le sfide della nuova evangelizzazione in un mondo che in poco tempo si è trasformato. Su questo verterà l'incontro del pomeriggio aperto a tutti. Noi abbiamo invitato tutti, le parrocchie, le associazioni, i singoli, tutti coloro che hanno magari una pagina Facebook della parrocchia, insomma, realtà grandi e realtà piccole. E ci siamo accorti, dalle prime risposte che stiamo ricevendo, che questo è un argomento di interesse generale. La pandemia ci ha insegnato che i mezzi di comunicazione non sono da condannare, che gli strumenti che ci permettono di essere vicini, anche se siamo lontani, sono in realtà un valore. E allora trovare un momento per educarci un po' all'uso di questi mezzi di comunicazione per, diciamo, servircene in maniera positiva e per far capire comunque la loro importanza a tutti. Credo che sia un momento bello. Noi speriamo che tante persone possano intervenire. La giornata sarà dedicata a Laura Ferrero, giornalista del cittadino e presidente Uxiliguria, scomparsa solo qualche settimana fa. A Chiavari verrà assegnato il premio giornalistico 2023, quest'anno attribuito a Laura. E nel pomeriggio sarà ricordato il suo impegno per Uxiliguria, per la comunicazione diocesana genovese. Questa giornata del 15 febbraio Uxiliguria la dedica interamente a Laura Ferrero, che era la nostra presidente e che è scomparsa il primo dicembre dello scorso anno prematuramente. Ecco, Laura credeva molto, non solo nel Uxiliguria, ma credeva molto nella comunicazione, ne ha fatto la sua vita, possiamo dire. Ecco, in questa giornata ci saranno alcuni momenti in cui noi la ricorderemo e sappiamo, già sentiamo che di questi eventi la Ia contenta e insomma abbiamo cercato di realizzarli anche nel suo ricordo. Ora parliamo di una realtà che si occupa di comunicazione a livello diocesano nel territorio della regione ecclesiastica Ligure, ossia del settimanale Il Popolo di Tortona, che anche quest'anno ha organizzato un concorso dedicato ai presepi. Nel Salone dell'Episcopio è avvenuta la premiazione. Quella del 2023 è stata la dodicesima edizione per il concorso Il tuo presepe in cartolina organizzato dal settimanale della diocese di Tortona, Il Popolo. Più di 180 presepi hanno preso parte all'iniziativa attraverso foto, inviatevi a posta o email 11 i premi consegnati nel Salone dell'Episcopio a Tortona. È un concorso che Il Popolo, il settimanale diocesano, ogni anno ripropone. Tutti gli anni ci riserva delle sorprese. Si tratta di invitare i lettori del giornale a fare una foto al presepe che allestiscono a casa, su luogo di lavoro, nelle sedi di alcune associazioni e vengono premiati i presepi migliori. Tutti i presepi sono belli però perché tutti ci invitano a fare posto a Gesù. Quest'anno ne abbiamo ricevuti più di 180 e si è tenuta la premiazione con sua eccellenza che ha rivolto insomma parole molto affettuose e calorose a tutti i partecipanti. Nel presepio c'è qualcuno che fino adesso non abbiamo ricordato. È un personaggio importantissimo. Anzi, guarda tutti insieme. Chi è il personaggio più importante del presepio? Chi è il tuo? Dal canto nostro continueremo a proporre questa iniziativa e quindi non smettete di fare il presepe anche l'anno prossimo e leggete sempre Il Popolo. Prosegue l'attività della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari. Iniziata ad ottobre, la scuola propone 36 corsi, lezioni in presenza, online e nei vicariati. Gli iscritti sono più di 400. Sentiamo. Da quale desiderio è nata la Scuola di Formazione Teologica nella conformazione che ha assunto quest'anno? Ma il desiderio è quello proprio che le persone possono incontrare la bellezza e la forza del cristianesimo attraverso la capacità che il cristianesimo ha da sempre di interagire, di parlare con la storia. E penso che questo sia uno dei doni più grandi che abbiamo ricevuto proprio dal Concilio Vaticano II di cui abbiamo celebrato i 60 anni dell'apertura quest'anno, la capacità di tornare a parlare con la storia. In questo senso, quante discipline sono state affrontate quest'anno? Allora, difficile dirlo quanti esattivamente, si potrebbe dire che ci sono 36 corsi. Chiaramente le discipline sono un pochettino meno. Sicuramente gli ambiti sono quello dogmatico, morale, storico, giuridico, della dottrina sociale, legato ai sacramenti. Insomma, ambiti tradizionali, ma che hanno dentro un'apertura all'uomo di oggi. Concretamente come si svolgono i corsi? I corsi sono semplicissimi, sono quattro lezioni che vengono fatte ogni mese diverse, su diversi temi. In ogni lezione ci può essere o sempre lo stesso relatore, o quattro relatori diversi, che vengono ad approfondire un tema. In una di queste lezioni si dà sempre un assetto un po' sistematico, perché le persone che non conoscono il tema possono essere un po' introdotte. E poi si cerca di capire, di vedere che ripercussioni ha, di comprendere quali sviluppi ci possono essere. Quindi nessun corso ha la pretesa di essere chiusi in se stesso. Poi il corso può essere in presenza, online, o in giro per la diocesi. Ecco, questa triplice strutturazione, in presenza online e sul territorio, che tipo di esito ha dato? Che tipo di riscontro vi ha dato? Ma interessantissimo, perché in presenza abbiamo capito che è come percepito come un momento forte. Cioè, le persone comprendono che lunedì è il giorno in cui ci sono i corsi di punta, a cui si muove in televisione, si deve avere il print time. Poi c'è più invece una cosa più salottina, quando si va sull'online. Le persone, c'è più clima di casa, si intercettano persone anche che non sono direttamente dell'ambito diocesano, ma che sono incuriosite dalla proposta. Invece sul territorio si vanno a prendere persone che non vorrebbero in presenza nella sede centrale e non farebbero neanche l'online, ma sono persone legate a un territorio che vengono lì per fare un'esperienza insieme lì. Quante persone hanno aderito? Allora, le persone hanno aderito sono più di 450 a questo punto. Cioè, ne abbiamo avuto più di 450 individui singoli che hanno frequentato almeno una lezione della scuola di teologia, che è un numero impressionante se pensiamo che siamo partiti da tre persone. Questo fa dire una cosa. C'è un desiderio di approfondire le ragioni della fede? Sì, e fa capire che le persone sono interessate a luoghi dove in qualche misura non sono catechizzati, ma sono luoghi dove sono chiamati a pensare e a pensare con persone che hanno voglia di far emergere in loro tutta la capacità che le persone hanno di rielaborare, di comprendere, di capire. Luoghi dove fidarsi, perché poi il tema grande oggi è quello della fiducia nelle informazioni. Credo che la scuola di teologia dica a noi su questi pezzi possiamo essere autorevoli. Chi sono i docenti? I docenti si va da persone della nostra diocesi che hanno fornito proprio un servizio importante a persone invece che provengono dal di fuori. Tutti hanno una caratteristica comune, sono persone competenti, competenti nel loro materia, ma non solo, anche persone che sono sul pezzo, cioè sanno come quella cosa che loro in quel momento li stanno affrontando ha una ripercussione sulla vita attuale dell'oggi. Penso soltanto ai cinque incontri sulla guerra, che non sono stati cinque incontri sull'Ucraina, sono stati cinque incontri per comprendere che cosa la Chiesa dice sulla guerra e in particolare per vivere l'occasione orribile di questo conflitto come un luogo dove comprendere di più quello che veniva detto nella tradizione. Fra i temi che avete affrontato anche l'omosessualità e anche gli abusi sui minori, ecco mi chiedo, perché affrontare questi temi? Siete partiti da una richiesta di chiarezza da parte del popolo di Dio o siete partiti dalla necessità invece dall'alto di fornire spiegazioni? Allora, io credo che sia questo. La questione di abusi credo che sia importantissima perché è qualcosa che mina la fiducia nella vita della Chiesa e quindi credo che noi abbiamo il dovere storico di parlare di queste cose, di dire che queste cose ci sono state, esistono, no? E che vogliamo guardarle in faccia. Nascondersi di fronte al dolore degli altri è il primo modo per perdere la fiducia degli altri. e in un certo qual modo anche la questione dell'omosessualità che viene ridotta sempre alla questione di morale sessuale, di diritto matrimoniale. Invece io credo che in queste epoche in cui parliamo di tanti aggettivi omosessuali, divorziati, sia il momento di tornare a parlare di sostantivi, cioè persone. Quindi il desiderio era proprio quello di dire noi vogliamo provare a parlare di questa cosa di cui parlano tutti, guardando però la persona. Un'ultima cosa. Pensate di aver avviato un processo o di aver generato un unico, comunque dato l'enorme sforzo organizzativo che ha comportato, rischia di esaurirsi? Io credo nel processo, ma ci credo a una condizione che sarà, come dire, sub-eterno, la vedremo, la stella facendo. La condizione è che non diventi l'estro di una persona sola. Che non diventi il lavoro di qualcuno che a un certo punto ha avuto il pallino di fare una cosa così, ma che diventi qualcosa che è proprio di tutto il popolo di Dio, cioè che è di una comunità e che il mio sogno è quello che questa scuola ci possa essere potendo non esserci io. A Savona ha preso avvio il percorso di formazione sul tema Laudato, sì, agire per un futuro sostenibile. Si tratta di sette incontri distribuiti fra febbraio e maggio in cui verranno sviluppati diversi argomenti. Nel primo, venerdì 10 febbraio, si parla di ecologia integrale come transizione e conversione. L'incontro si svolge in presenza nella Sala della Provincia di Savona. Telepace riprenderà tutti gli appuntamenti del percorso formativo che verranno trasmessi ogni domenica successiva all'incontro. Quindi il primo appuntamento verrà trasmesso domenica sera alle 21.40 su Telepace 1 al Canale 12. Ma sentiamo l'intervista di presentazione. La settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto si è conclusa con l'invito a tutte le diocesi ad attivarsi per costituire comunità energetiche, un invito che non è rimasto inascoltato. Le comunità di consumo sono una soluzione all'interno di un cammino molto più ampio che alla transizione ecologica. E una transizione ecologica comporta non semplicemente il prendere in esame delle soluzioni tecniche quanto piuttosto mettere in atto una visione della vita. E allora per questo avevamo voluto ripartire da quel documento fondamentale che è la Lado e l'Alto Sì che da questo punto di vista direi accompagna o ha l'intenzione di accompagnare la Chiesa e non solo la Chiesa a rivedere a partire dalla fede lo sguardo sul mondo, sul creato, la natura, chi vi abita e il modo di abitare dentro il creato. E quindi tutte le relazioni che legano le persone. e queste relazioni sono fatte di economia, di politica, di tecnica, di scienza e tutto questo ha bisogno di essere riletto dal punto di vista della fede perché lì veramente la fede ha uno sguardo attento e profondo sul senso della vita, sul senso dell'ambiente in cui viviamo e allora è nata questa esigenza di offrire un percorso di riflessione e non quindi una serie di incontri e di soluzioni concrete soltanto, ma un percorso di riflessione che accompagni un cambiamento del modo di pensare. L'ufficio pastorale sociale del lavoro della diocesi di Savonanoli offre per questo un percorso allargato, sette incontri, uno ogni 15 giorni circa, condiviso con le altre diocesi della Liguria e aperto a tutta la comunità locale. Si è scelto ad esempio di non farlo all'interno di strutture ecclesiali, ma di strutture pubbliche. In effetti gli incontri saranno realizzati nella sala della provincia, cercando di coinvolgere in questo realtà esterne alla Chiesa che attualmente stanno seriamente lavorando sul tema della transizione ecologica. Gli incontri si sviluppano nell'ambito di una cornice. Nel primo, Ecologia integrale come transizione e conversione, il 10 febbraio, Sebastiano Nerozzi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore interverrà sul cambiamento di prospettiva che la transizione ecologica richieda alla vita sociale. Il 12 maggio, per l'ultimo appuntamento, Valentina Rotondi della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana svilupperà il tema Quale chiesa per la transizione ecologica? La prima è che adesso è un po' lo spessore della transizione culturale che è in atto e di cui non ci si fa carico sufficientemente perché si pensa che la transizione ecologica sia soltanto un fatto di soluzioni tecniche mentre invece proprio è un cambio di visione del mondo. L'ultima è che cosa la chiesa è chiamata a dare in che cosa la chiesa è chiamata a giocarsi in questa transizione ecologica. Gli incontri inseriti nel percorso affrontano poi temi più specifici l'ecologia dell'informazione con Tarcisio Mazzeo, le scelte personali che sostengono nuovi stili di vita con il presidente di Banca Popolare Etica Ugo Piggeri, il ruolo degli enti locali con il sindaco del comune Lombardo di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra, il tema della pace e delle materie prime con Francesco Gesualdi, saggista, attivista e fondatore del centro Nuovo Modello di Sviluppo. Quando si parla di pace non si fa riferimento soltanto alla guerra che può essere in Ucraina e in Russia come in altre parti del mondo, ma che dietro a questo ci sono tutta un'altra serie di problematiche strettamente connesse che determinano un passaggio o un blocco all'interno di una transizione ecologica. Le materie prime sono una delle cause scatenanti delle guerre ad esempio in Africa e si pensa che questo problema sia un loro problema e invece un nostro problema. All'interno di una riflessione di transizione ecologica tutti questi aspetti devono essere tenuti strettamente collegati tra loro e credo che da questo punto di vista come Chiesa siamo profondamente interpellati e non dobbiamo ancora una volta perdere come tante altre volte è accaduto il treno perché poi questo è un treno che parte malgrado noi o ci saliamo sopra e sappiamo dare il nostro contributo o un treno che parte e ci lascia sulla marciapiede non è un'occasione da perdere speriamo di offrire alla gente proprio un percorso vero di riflessione e di scambio di confronto la posta in gioco è questa di riuscire a mantenere insieme il passaggio culturale con le soluzioni tecniche perché molti saltano diciamo il primo capitolo che è quello di porsi delle prospettive culturali e dico anche di fede serie e profonde e passare direttamente a quelle che sono le soluzioni tecniche di fatti il pericolo è che chi poi gestisce queste soluzioni tecniche si butta sopra le soluzioni semplicemente per una questione di business però se non c'è un passaggio culturale non sarà un cammino proficuo il percorso che sta iniziando e che speriamo cresca delle comunità di consumo non dicono che la soluzione sia quello di guadagnarci usando, consumando energia e pagando meno ci sarà anche questo aspetto ma richiede che tra le persone che sia una capacità reale una capacità reale di saper collaborare e saper vivere creando occasione di vita comunitaria Ora torniamo a Tortona che custodisce diversi gioielli di fede di arte e di cultura il Vescovo Guido Marini nei giorni scorsi ha visitato la Pinacoteca vediamo insieme il servizio La Pinacoteca di Tortona ha aperto al pubblico nel 2001 ed è frutto del lavoro della fondazione che due anni prima aveva acquisito il nucleo di opere raccolte negli anni dalla Cassa di Risparmio di Tortona è nato così il progetto di valorizzazione del patrimonio artistico che fino a quel momento aveva privilegiato il rapporto con il territorio ed in particolare con Giuseppe Pellizza da Volpedo che apre la strada alla produzione pittorica del divisionismo in particolare fra Milano e Torino ha preso vita così in pochi anni una esposizione permanente dedicata proprio al divisionismo che documenta questa stagione artistica attraverso la varietà e l'originalità dei linguaggi pittorici dagli artisti socialmente impegnati degli anni 90 e dell'Ottocento fino agli approcci empirici in ambito simbolista e ai primi saggi dei protagonisti della rivoluzione futurista per i quali la divisione del colore costituiva il linguaggio della modernità Innanzitutto ringrazio Sua Eccellenza per questa graditissima visita e la Pinacoteca rappresenta per la zona un arricchimento con Volpedo col Museo della Chiesa rappresenta un unicum in questa zona che possiamo vantare Il divisionismo così ho appreso questa mattina gioca molto sull'accostamento dei colori per dare alla luce un vigore del tutto singolare e devo dire che la visita di questa mattina se dovessi sintetizzarla è una visita proprio nell'incontro con una straordinaria luce da cui rimane illuminata l'intelligenza rimane illuminato il cuore rimane illuminata la vista e la speranza è davvero che quanti vengono a visitare questa mostra possono fare esperienza di questa luce così forte bella significativa per diventare a loro volta anche luce e sappiamo come la cultura nelle sue espressioni più alte e più belle ha sempre qualcosa di grande da dire all'umano e alla quotidianità della nostra vita e quindi questa mostra nel cuore di Tortona sicuramente è un apporto davvero grande per la vita della nostra città per l'umanizzazione del nostro vivere insieme Terminiamo così questo appuntamento con noi richiesta di Occesi Liguri grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana grazie per averci seguito